Diamo il benvenuto al primo ospite di questa puntata, Carlo Buonerba. Carlo, buon pomeriggio. Abbiamo pronto il collegamento con Carlo Buonerba. Eccolo, giornalista, scrittore. Buon pomeriggio, benvenuto. Buon pomeriggio a voi, Carlo. Buon pomeriggio a Antonio, ovviamente, grazie. Primo ospite del 2022 di Cose di Calcio. Quindi ci dica tutta la verità, nient'altro che la verità. Grande giornalista, collega e poi arriviamo anche ai temi un po' spinosi. Perché quando si parla di campionato di Serie A, fino a poche ore fa non capivamo e continuiamo a non capire perché le strade che portano a determinate partite sono certe, altre un po' più incerte, alcune squadre hanno delle altre proroghe, eccetera. E tu hai un po' indagato, Carlo, in queste ultime ore del 2021 e in queste nuove ore del 2022. Grazie Antonio, innanzitutto il primo ospite dell'anno, quindi io faccio gli auguri a tutti i teleascoltatori e radioascoltatori. Sì, in effetti, insomma, proprio ieri è uscita la mia intervista all'avvocato Francesco Pavicelli per quello che riguarda la situazione salernitana, perché nei giorni scorsi, insomma, è stato dato tutto come risolto o a quelle che sono le mie informazioni attuali, non è esattamente così, vedremo come andrà a finire. Certamente sul doppio pesismo o comunque sul fatto che ci siano alcune sperequazioni nel come si gestiscono determinate situazioni, questo purtroppo è un problema che nel campo italiano ci portiamo indietro già da Tavecchio in poi e forse anche da prima, per cui speriamo, insomma, che l'anno nuovo possa portare consiglio. Ecco, ma intravedi la possibilità di qualche colpo ad effetto nelle prossime settimane? Cosa hai intuito da questa tua intervista all'avvocato, che rappresenta un po' quella accordata di imprenditori a cui è stata rifiutata sostanzialmente la possibilità di acquisto, pur avendo presentato un'offerta precedente a quella dell'attuale proprietario, formalmente attuale proprietario? Beh, io innanzitutto a fine articolo, l'articolo è apparso su Valore Italiano e appunto a fine articolo diciamo che chiudevo questo articolo proprio con il fatto che l'avvocato Policelli e l'accordata che rappresenta presenteranno in questi giorni, se non già oggi o comunque nei prossimi giorni, appunto un esposto alla procura di Salerno, perché c'è qualcosa che non torna, nel senso che l'offerta accettata di Erbolino è minore a livello economico rispetto a quella che era stata fatta appunto da questa accordata svizzera e quindi insomma si vuole capire perché, tant'è che l'avvocato Policelli appunto ha chiesto di l'acquisizione degli atti per capire bene come siano le cifre, perché poi si è parlato di 10 milioni di euro, quella che sarebbe stata accettata più 20 milioni sulla gestione di stipendi eccetera eccetera, ma insomma c'è qualcosa che non torna in effetti Ecco, quando si comincia con le cose belle, delle cose che funzionano, vuol dire che sarà un anno semplice, no Carlo? E quindi no, non ci scherziamo sopra, ma abbiamo voluto partire da quel problema che la federazione, che la Lega Calcio ha dovuto gestire e diciamo che ci sono molte criticità ormai da settembre, quando le condizioni per iscrivere la Salernitana non ci sarebbero state e siamo ancora qui a parlare di cosa potrebbe capitare Mettiamo da parte tutto, intanto per far vedere che siamo sul pezzo, sulla notizia Oggi comincia anche il mercato, hai aspettative, dai diciamolo, lì dietro c'è, si apri quei mobili lì ci sono magliette Lì dietro c'è Di Bala, Bernardeschi Ci sono tutti quelli con il rinnovo del contratto C'è anche Vlaovic che bussa la porta? O i cambi? Vlaovic bussa, non è che bussa, secondo me è sulla soglia che sta capendo che cosa fare da grande Ovviamente per quello che riguarda il discorso tecnico, Antonio Tecchiara sarebbe importante Nulla da dire, perché l'Avici comunque, per quanto ha dimostrato questi due anni è sicuramente il tassello che sarebbe proprio fondamentale per la Juve Di Morata, avete appena detto, insomma, Alvarito pare che prenda la strada di Barcellona Sono d'accordo con quanto hai detto tu prima, Antonio, sicuramente la Juventus deve fare tesoro anche sia della questione Ronaldo, di come è stata gestita, forse non benissimo e sia, insomma, tutelarsi Non è facile gestire alcune situazioni quando si è messi un po' nell'angolo In questi giorni ho rivisto il grande film di Ali, Mohamed Ali e quando ti mettevano nell'angolo pativa anche il grande campione Poi devi saperne uscire da quell'angolo e dare la botta finale per riprenderti il titolo A parte questo escursus, Carlo Bonerba Sì, appunto, quello che dicevamo, sostanzialmente la Juventus ovviamente è ambibio perché che quest'anno fosse un anno di transizione come già forse quello scorso lo si sapeva, lo si era messo in preventivo si è riproposto Allegri, proprio perché nella gestione del gruppo è sicuramente uno dei migliori al mondo e a mio avviso da quel lato lì si è fatto bene però c'è una squadra di giocatori giovani, talenti, sicuri, talenti ma che sono ancora talenti, che devono crescere e devono sentire il peso di questa maglia addosso che non è semplice e mi riferisco a Kuluseschi, mi riferisco anche allo stesso Chiesa che nonostante sia sicuramente un giocatore che ha anche reso abbastanza nella Juve a parte l'infortunio attuale ma di sicuro ci si aspetta di più e poi ovviamente il nodo di bala fondamentale bisogna capire se la Juve vuole ancora puntare su Paolo o meno perché questo a mio avviso, calcolando anche quello che c'è in giro non so quanto possa essere saggio una pista diversa ma è anche vero che però il giocatore come in un certo senso ha annunciato arriva bene e deve dimostrare nei fatti la vicinanza alla Juve Cassares intanto vicino alla Salernitana tanto per tornare all'attualità e trovare un punto d'unione tra le varie notizie senti, grazie alla tua presenza lanciamo in questo momento il sondaggio di oggi cerchiamo di portare un po' di originalità ne approfittiamo della tua presenza caro scrittore oltre che giornalista anche perché c'è un libro che effettivamente ci ha fatto venire in mente che si trae in inganno perché questo cronaca di un amore non corrisposto sembra un libro dedicato ai tifosi juventini quelli delusi del momento io non posso dire che comunque il protagonista che ti dico spesso in effetti è un tifoso alla Juve quindi in un certo senso è anche dedicato ai tifosi del Juve in realtà però la dedica è un'altra ed è appunto cuore rosso ce lo ricordiamo molto bene ma avremo modo poi di parlarne in qualche prossimo appuntamento tu te li ricordi i tacatacataca di gennaio cioè gli attaccanti quelli di scorta venivano chiamati quelli che arrivavano a gennaio ti faccio alcuni nomi se vuoi con delle espressioni con degli aggettivi con degli avverbi dimmi tu qual è stato il colpo il colpaccio, il colpetto il colpo duro da digerire io mi ricordo Tonio, Osvaldo, Anelka, Bendner, Borriello, Matri e adesso speriamo Osvaldo per il gol fatto alla Roma vale il prezzo del biglietto e anche per le foto di gruppo perché alzava il livello estetico della squadra abbastanza pesantemente parole sante parole sante dietro Osvaldo c'era anche la nostra chiera Pappa Nicolaou poi dimmi altri nomi Tony, Anelka, Bendner, Matri, Borriello beh Tony comunque il suo contributo l'ha fatto mi è sembrato anche calcolando ovviamente che era fine carriera ma io penso che non sia stato un brutto colpo io pensavo mi facesse anche il nome di Thierry Henry che quello è stato veramente purtroppo mi limitavo a questo periodo nel senso poi ce ne sono tanti altri ovvio Terri Henry mi ha tirato una pugnalata è facile ovviamente andare a intervenire a gennaio soprattutto negli ultimi mercati Antonio dove in realtà appunto si viaggia molto sugli scambi con pochi soldi pochi denaro cash quindi è difficile lì si vede più l'abilità proprio dell'amministratore delegato che insomma che può effettivamente con dei colpi incidere riuscire a risolvere situazioni non semplici io credo che questa Juventus a parte il fatto che adesso siamo comunque in un trend positivo possa risalire veramente la classifica è vero però evidentemente da che cosa poi farà o non farà Morata che è in attacco insomma l'attacco latita l'assenza di Ronaldo a livello numerico sta pesando tantissimo quindi io credo che in qualche modo la Juve deve intervenire non so se la pista Icardi che poi impara è quella più probabile venga percorsa fino in fondo ma qualcosa insomma ci si deve inventare più che mai oggi serve rispetto a questi nomi che abbiamo fatto lo chiediamo anche agli amici a casa al nostro 340-5425-324 un attaccante funzionale per il progetto che si sta ripulendo di qualche situazione naturalmente un po' complessa che si era venuta a creare all'interno del gruppo sotto profilo tecnico-tattico Carlo Bonerva noi ti salutiamo ringraziandoti di questa prima ospitata del 2022 in cose di calcio e a prestissimo ancora auguri di buon anno grazie a voi un abbraccio e forza Juve grazie come sempre ai nostri ospiti